Dolcissimo Gabriele regala la mimosa alla sorella Nina e Cliz e Paolo fanno una cenetta intima. Il tavarro nazionale chef is back, è stata pure la rima, very 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 food porn. Ho mangiato tutti i biscotti in luce, ci sei mangiato tutto il biscotto, ma sei buonello, fate l'amore con il sapore. C'è un particolare, Gabriele comunque non vuole dare la mimosa a Nina, se la vuole tenere per sé. Che dolce!